Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Luca qualche movimento Roberto C'è un video proprio Non avevo capito questo Bravo Non trovate questa pentelana in questa piacetta Quanti ne vogliono loro questo non te lo so dire Ma ci telefoniamo? Sono tre serre Ci sono tre qualità diverse In tutto siamo intorno ai 5.000 metri Questa è serbaciumata? Sì, 1.500, 1.500 e 2.000 Con tre diverse qualità di pianta Tutto Ha visto? Che le dicevo? Non succede niente Ma poi scusi cosa pensavo che facessi? Ma lì? Non si intende non credo Comissario Rivera Sono Elena Brasso Della diretta assicurazione Non si intende non credo 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 Grazie a tutti